Massimo Bitonci, nuovo anno ma vecchi problemi per il governo Letta, continua a traballare e non si sa mai se avrà vita fino al mese prossimo. Ma è un continuo e chi ci ascolta lo sa benissimo. Abbiamo passato il mese di novembre e dicembre tra fiducia e controfiducia, crisi di governo annunciate, scarpinate al colle, incontri con Napolitano. Adesso un nuovo patto di coalizione, una nuova crisi possibile nei prossimi giorni. Noi continuiamo a dire che questo è un governo che non sta facendo assolutamente nulla, non sta facendo le riforme. Si sta parlando ancora adesso di legge elettorale, noi diciamo chiaramente basta cancellare quella che c'è adesso. La consulta ha dato una mano su questo. Si torna al Mattarellum che è un sistema dove si può votare il candidato. Sono dei collegi uninominali abbastanza piccoli per cui si può individuare il candidato e votarlo. Ed è un sistema che garantisce anche movimenti territoriali come il nostro e quindi superando quel problema anche dello sbarramento. Quindi non occorre tanti sistemi spagnoli, il sindaco d'Italia o invenzioni miste che si vogliono fare solamente per garantire alcuni partiti e poi tagliare fuori movimenti come il nostro che sono movimenti territoriali che quindi non vogliono e non potranno mai avere adesioni al sud Italia o in altre zone dove la Lega ovviamente non è presente. Oltre al problema elettorale c'è tutto il problema delle riforme che non vengono portate avanti e della crisi economica che non viene affrontata. Anzi, al di là di quello che viene detto dal ministro Saccomanni e dagli altri ministri economici, la crisi economica morde ancora e morde pesantemente la nazione. I consumi sono sempre in netto calo. Abbiamo avuto una diminuzione dell'IVA molto pesante di quasi 4 miliardi lo scorso anno e non si sta facendo niente per rilanciare questi comuni. Peraltro la tassazione è diventata ogni giorno una telenovela, si passa dall'ICI all'IMU, dall'UMMI, dall'IMU alla TASI, dalla TASI, dalla TASI, dalla TARES, dalla TARES. Il cittadino ma anche gli operatori del settore, i commercialisti, i CAF, anche gli stessi sindaci che dovranno applicare questi importi non sanno assolutamente nulla all'inizio di ogni anno. E questo si fa solamente per fare il gioco delle tre carte, per aumentare la tassazione e cambiare solamente il nome. Io penso che questo governo sta facendo malissimo, i dati economici sono disastrosi e quindi è il momento di cambiare il governo che si vada nuovamente a votare con un sistema elettorale, come ho detto prima, un sistema elettorale che garantisca anche la Lega Nord e un sistema elettorale di piccoli collegi in cui si può scegliere il candidato.